Fatto tutto da solo, ci aveva già provato, ha visto Scesne leggermente fuori dai pali, lo ha beffato con un pallonetto morbido, fantastico, pallone che ha scavalcato il portiere Scesne, era almeno due metri. Ma questo è Mario Balotelli, questa è la sua forza, la consapevolezza di essere veramente un talento straordinario, lui lo sa, guarda riceve palla, alza la testa e vede il portiere fuori dai pali, tutto molto bello. Il primo gol in azzurro di Mario Balotelli contro la Polonia al trentesimo, gran parte del merito, buona parte del merito, va anche però a Marchisio che è stato bravo ad intercettare quel pallone, a servirlo subito per Mario Balotelli, felicissimo Cesare Prandelli. Assolutamente, molto molto felice.